La marcia blu per le vie del quartiere per celebrare a Taranto la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Con un nastrino attorno al braccio e un palloncino legato al polso blu come il colore simbolo di questo disturbo, i bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Martellotta di Taranto sono usciti dalle loro aule insieme a maestri, mamme, papà e nonni, ma anche alcuni residenti e commercianti del quartiere Taranto II capeggiati dal dirigente scolastico Giovanni Tartaglia. E' emozionante vedere bambini dai 6 anni ai 10 anni raggruppati verso un unico scopo, i fiori più belli come piace definirli a me che sono in questa scuola ma che sono in tutta Taranto, in tutte le scuole di Taranto. Bene, la scuola è presente, la comunità è presente, la scuola che vogliamo e la società che vogliamo costruire insieme a loro, per loro, con loro. Questo momento di riflessione che vede al centro i ragazzi, i bambini affetti da autismo, per farli sentire meno soli e capire in che modo possiamo aiutarli a renderli più autonomi e più indipendenti. E' la seconda volta che sono uno di loro, volevo ringraziare al preside di questa bellissima scuola per aver accorto questa grande occasione, specialmente la giornata proprio dedicata ai bambini, per accogliere la gioia, condividere con tante persone, specialmente i genitori per i propri figli, e la luce che si accende davanti a noi, trascorrere una giornata che non sarà mai dimenticata. Grazie.